palermo ascoli 1 a 3 e poteva pure finire peggio il motivo è semplice gondò sembrava sedi gondò sembrava drogba se ci fosse stato marianella peccato sarebbe stato fantastico l'avversario però sentire dire meravigliosamente distintamente eccetera eccetera battella pescamente drogba eppure ma adesso è sedi gondò che ci ha fatto il culo ma a centrocampo donati non mi ricordo chi ce l'avevo qua su una punta della lingua bushel bushel e donati hanno fatto il mazzo sia a damiani che sembra lontano parente a livello fisico perché comunque l'ottava in serie b in serie c l'ottava e mi sa che è scazzato questo e poi però passi indietro di bro ma comunque bucchi è stato era stato bravo pure con la terrestina a metterci in fortemente difficoltà credo che sia stato l'avversario più bravo insieme a quello dell'entena questi due giovani allenatori sono stati veramente più bravi nei playoff e quindi nulla ci hanno fatto un mazzo così percato io è la colpa di un ragazzo che si chiama crivello che ha sbagliato completamente fuori gioco io non mi domando ma perché il giocatore della sua esperienza sbaglia il fuori gioco ma poi la cosa più strana è la cosa mi è piaciuta meno sono i fischi è scarso crivello va mica ha fatto qualcosa contro la società è la società che ha fatto male a tenersi doveva dare già tempo fa un foglio di via a lui assomma pure però per principio non vuole pagare nessuna nessuna rescissione io immagino però è tutto vero è vero pure che con davidac sala e matteio che è arrivato due giorni fa tre giorni fa quando è stato meno male che c'era crivello altrimenti dove mettere buttalo sulla sinistra e magari un pierozzi a destra ma magari avrebbe fatto i stessi errori per l'inesperienza si è preso e buttato di botto quindi io penso che fischi in generoso soprattutto per bellucci ma che ha fatto bellucci bellucci è stato quello che è bellucci io pensavo agli applausi per applaudire perché bellucci è quello che quando nell'anno in cui sono arrivati richardson bellucci bellucci sbatte i pugni e attirò l'attenzione nazionale dicendo non sappiamo di chi siamo e non mica è facile ma capitemi che molti molti addetti ai lavori non hanno apprezzato questo questa condotta perché è un mondo falso è un mondo pieno di ipotesia ma ha avuto assolutamente ragione anche i giornalisti non l'hanno apprezzato invece avete due coglioni quanto una casa vi siete mai ribellati così in questa maniera al vostro professore bastardo o al vostro datore di lavoro penso di no il 90 per cento compresi sottoscritto mai pensiamo sempre alle conseguenze lui si è rotti i coglioni e in maniera educata è alzato un po la voce ma educata disse non sappiamo di chi siamo per favore stateci vicino bellissimo da lì poi mirvi si inserì e lui ha dichiarato che la avventura a paella iniziata da quello sfogo non capisco il fischio poi niente partita che appunto una come esperienza avevo detto fino a quarantesimo crivello mi sta piacendo a livello difensivo non è cosa di fare passaggi c'è un passaggio in cui floriano riceve palla da lui si alza lo sguardo per cazzare il compagno poi vede che è crivello e fa finta di niente cioè si vede in faccia che ha le palle piene pure lui di crivello però è crivello cioè non è colpa sua e chi l'ha comprato ai tempi e chi non gli ha voluto rescindere il contratto poi deve da che è arrivato già infortunato e sarà si è infortunato quindi Matteo è arrivato da poco e sto ripetendo lo stesso concetto di prima dopodiché niente iniziamo allora quindi con le pagelle meglio così piacenti sei politico anche se per tutti i palimitani non sa parare perché subisce tre gol ma se un portiere può subire anche dici gol se non hai colpe oggettive cioè nel primo gol è natale sciavuro disturba la traiettoria lo mette fuori gioco e la si avventa condo e primo gol di rapina di condo sul secondo sbaglio nel fuori gioco col pallonetto di condo sempre crivello sbaglia è quello che deve fare se sta in porta non ho capito cosa qual è la colpa del portiere al terzo quello ha avuto tutto il tempo di mettere a stare sul sinistro e tirare in diagonale sempre condo quindi che colpa ne può avere il povero pigliacelli non lo so a parte che al ventinovesimo ha dato una palla meravigliosa non ricordo chi adesso forse valente sarà sulla fascia sinistra un'apertura meravigliosa straordinaria a noi non ce ne frega un cazzo subito 3 gol quindi è scarso livello voto 5 fuori categoria lo sappiamo bene non sa fare passaggi ma chi se ne frega manco valdi maldini faceva chissà che passaggi però è più difensivo ma tu mi sbagli fuori gioco a livello di marcatura leggeva è colpa meglio che non se ne fa 5 nata il sauro oggi voto 5 5,5 lancini voto 5 fuori categoria mi dispiace per lui è un bravo ragazzo non ci siamo nata il ciavro vorrei capire sono attenuante che lavora con marconi è una cosa poi arriva la riserva che è schifo di capelli che poi arriva un conto è quando hai il tuo partner normale e un conto è quando hai lancini lancini sapeva benissimo che finché c'era Baldini c'era speranza con qualsiasi altro allenatore di serie b non sarebbe stato da escluderlo quindi da da recensione quindi non lo so deve essere difficile per il per il rumeno avere lancini come compagni la parte buttaro 6 e mezzo buttaro è straordinario buttaro la crescita di buttaro e sta crescendo a livello offensivo indomina passaggi imparare a tirare in porta però tanta roba voglia volontà in difesa non sbaglia un colpo è un terzino che non centrale quindi sta diventando un terzino difensivo con qualche licenza di andare in avanti ottimo dovrebbe subito rinnovare il contratto e dispiace per pierozzi che già si sta parlando di cessione perché ha capito che con butta non va da nessuna parte e nulla poi due centrali brett da me 5,5 sul crassati da donati e buce che forse prendono meno d'ingaggio se non sbaglio e buce non vorrei dire faccio un video che la metto in un'altra maniera come ieri ci vediamo io e mio amore ci vediamo una coppia di amici e loro bambini io penso che si chiamava stefano invece è giovane preciso dopo di che è niente meno mai stefano nel nome del figlio quindi sul caso sono salvato in cacciata allora poi floriano voto 6 fino al primo tempo ha fatto il suo dovere ha fatto un bel floriano assolutamente non giocava così ha ripreso dagli ultimi quattro mesi buone buona inventiva ci sta no 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 ottimo ottimo io gli farei fare tutti i primi tempi poi poi fuori però interessante vediamo con i nuovi acquisti anche costura vediamo cosa si può fare è il nuovo arrivato dall'ascoli ora vediamo salice vediamo vediamo salice che ruolo avrà che stura che poi è entrato ne parliamo valente voto 6,5 assolutamente entra nella categoria un debuttante si fa espellere perché la sua coppia di aver bullizzato l'arbitro da piccolo che non si spiega due interventi due munizioni la prima era magari per tenere il controllo ci può stare tutta la vendita con l'attaccante con un centrocampista offensivo perché perché non vuoi rovinare la partita molendo centrocampista difensori però per tenere il controllo ma il secondo cartellino voteva grazia ma ora è lì è un po alia stavo perdendo 5,5 secondo tempo come dall'altra parte l'ho visto già meglio ha cambiato un pochino voto 6 senza infamia e senza lode però aveva un avversario situazione una partita difficile e brunoristo 6,5 segna si vede che questa categoria la può fare tranquillamente assolutamente vale tutti i soldi che poi mi ha dovuto spendere per riscattarlo corini voto 5,5 un pochino troppo presuntuoso floriano andava cambiato prima è nulla dovevi farne entrare un pochino i subentrati che ha fatto bene perché betella dal primo minuto non puoi farlo giocare un difensore centrale da qualche giorno è un ruolo troppo delicato hanno fatto bene a gestire i cambi solo che però floriano prima nuovi entrati per l'appunto ottimi finalmente Sturaz è uno che si vede che c'è il piede segre assegnato mi piace molto segre perché ha un'ottima coordinazione nonostante un metro e novanta tipica dei giocatori del torino ho visto questa cosa è un bel giocatore di maniano deve capire l'intesa con i compagni quindi è più un sv un senza voto e quindi questo niente torini deve capire un po più di umiltà corini mi sa però è anche vero che sono un allenatore troppo umiltà non è non è un grande allenatore ce la vedete voi maurigno capello con umiltà dai finiamo quindi questo comprimati di questo mondo speriamo che segni ancora almeno possiamo dire che non siano stati gli unici incapaci a fargli fare una tripletta veramente anzi per la fine è 4 1 segnato quel giocatore era pericolosa la cosa per me non era fuori gioco c'era la volontà del difensore di passare la palla indietro secondo me quindi non era fuori gioco madonna che stanchezza il lunedì ho fatto un video all'aperto c'era troppo audio disturbante detto questo se siete fino a qui scrivete vi mettete mi piace così continuo la mia opinione è nulla adesso c'è la regina però è se la regina fa lo stesso errore che ha fatto il palermo di essere un pochino pensando e vabbè ora se abbiamo pareggiato a baria abbiamo vinto in casa con ti perugia ora si segna ora si vince si segna e si vince non è così se la regina fa la stessa io spero la regina è così ingenua fare lo stesso ragionamento stupido e palermo dopodichè sono stanchissimo e vi saluto e mettete iscrivetevi datemi dei suggerimenti un abbraccio e ciao